Poche cose mi fanno arrabbiare come quando viene usato quello che dico per sostenere cose che io non ho mai detto. Oggi parliamo di un vegetale che quasi tutti noi mangiamo ogni giorno e che non esiste allo stato selvatico. Non c'è, non è mai esistito da nessuna parte al mondo. E che nell'agosto del 2014 sulla rivista Le Scienze ho definito un mostro genetico. Stiamo parlando del grano tenero o del frumento che tutti noi consumiamo quando mangiamo del pane, della pizza, torte, biscotti e così via. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole Chimico di Quartiere. Oggi quindi parliamo del frumento. Ebbene sì, il frumento allo stato selvatico non esiste. Esistono i pomodori selvatici antenati dei moderni pomodori, esiste l'uva selvatica, esistono le mele selvatiche, ma il frumento selvatico, il grano tenero selvatico, non esiste. E allora da dove proviene? Beh, un traduttore della Bibbia e autore di libri, Mauro Biglino, qui su YouTube, in decine e decine di conferenze, sostiene che il frumento tenero ci è stato donato e portato dagli Elohim, cioè da una razza aliena extraterrestre. E per supportare questa sua ipotesi utilizza e, diciamo, interpreta molto molto liberamente l'articolo che ho scritto, appunto, sulle scienze di agosto 2014. Ho pensato quindi che fosse il caso di raccontarvi questa storia mettendo tutti i puntini sulle i. Le storie iniziano sempre con un c'era una volta, e così anche la nostra. C'era una volta un grano, un triticum, come dicono i botanici, tra i 300.000 e i 500.000 anni fa, quando Homo sapiens ancora non esisteva. Anzi, in realtà c'erano due grani nella nostra storia, due grani selvatici, due specie selvatiche che crescevano spontaneamente sulla zona montuosa a sud-est della Turchia. Crescevano spontaneamente perché l'agricoltura non era ancora stata inventata, e risale a circa 10-12 mila anni fa, cioè l'altro ieri. La prima pianta si chiama triticum beoticum e cresceva nella zona che adesso viene collettivamente chiamata mezzaluna fertile, cioè una zona che comprende parti della Turchia, della Giordania, della Siria, l'Iraq, una parte dell'Iran, e così via. Vi ricordate, no? Dalle scuole elementari. Se facciamo un salto in avanti di 280.000 anni, lì in quella zona è arrivato Homo sapiens che raccoglie e mangia occasionalmente dei semi di questo grano selvatico che utilizza pestandoli per fare della farina e poi cuocerlo. È il periodo in cui si sta inventando l'agricoltura, quindi questi protoagricoltori iniziano a coltivare, a domesticare, come si dice, questa pianta selvatica, cominciano a coltivarla, cominciano a selezionarla, e pian piano creano il Triticum monococcum, quello che meno eternamente viene chiamato farro monococco. È tornato anche ultimamente di moda con questa mania dei grani antichi. E, se vogliamo, è l'unico vero grano geneticamente antico che possiamo trovare, comprarlo e mangiarlo. È una delle tante specie di Triticum che esiste e le sue capacità, diciamo, panificatorie non erano granché. Se ancora adesso provate a fare del pane o della pizza con una farina 100% farro monococco, beh, non vi viene granché, non lievita bene, rimane un po' gnocco. Insomma, c'è un motivo se poi è stato abbandonato in seguito. Quindi, insomma, i nostri antenati, a cui piaceva comunque mangiare bene, cercavano un'alternativa. Allora, facciamo un flashback e ritorniamo indietro di 280.000 anni. Nella stessa zona cresceva un altro Triticum selvatico, un altro grano selvatico, che si chiamava Triticum urartu. Prima di proseguire però mi dovete concedere un piccolissimo inserto didattico. Vi devo spiegare cosa succede durante un normale incrocio. Quando noi prendiamo due pomodori, li incrociamo e nasce un altro pomodoro. Oppure quello che succede quando un papà e una mamma hanno un figlio. Ognuno di noi ha nelle nostre cellule il cosiddetto patrimonio genetico, che è diviso in vari cromosomi, e sui vari cromosomi ci sono tutti i vari geni che ci permettono di funzionare. Bene, nelle cellule normali del nostro corpo il patrimonio genetico è duplicato. Si dice tecnicamente che noi siamo diploidi. Fate finta che questo è il nostro patrimonio genetico. Le cellule normali ce l'hanno così, quindi qua abbiamo una cellula e qui abbiamo una cellula diversa, sempre della stessa specie ma magari di un'altra varietà, che ne so, stiamo cercando di incrociare due pomodori, magari i pomodori tipo San Marzano e i pomodori tipo Costoluti. Quello che succede però è che in una riproduzione sessuale non si incrociano, non si fondono questi due patrimoni genetici perché da corredo doppio, corredo doppio, avremmo un corredo quadruplo e non funzionerebbe normalmente. Quindi quello che succede è che le cellule sessuali, per esempio gli spermatozoi, le cellule uovo o il polline, hanno solo la metà del patrimonio genetico. Quindi quando si incontrano due cellule sessuali abbiamo la metà del patrimonio genetico che arriva dal papà alla metà del patrimonio genetico che arriva dalla mamma e queste si ricongiungono e otteniamo esattamente lo stesso numero di cromosomi, lo stesso corredo genetico con i geni che sono però diversi perché metà arriva dal papà e metà arriva dalla mamma. Abbiamo ancora lo stesso numero di cromosomi e quello che è stato tenuto con un incrocio è ancora della stessa specie. Nel caso del farro monococco i cromosomi sono 14. Se si incrociano due piante di farro monococco la pianta figlia avrà ancora 14 cromosomi. Dicevamo circa 300.000 anni fa succede una cosa che se immaginiamo le specie vegetali come fisse, create e immutabili, come una volta si pensava, beh, succede una cosa che in teoria non sarebbe potuta accadere. Però invece accade, ed è accaduto che durante la riproduzione le cellule sessuali del Triticum urartu non hanno perso la metà del loro corregio genetico ma è rimasto tutto intero e casualmente si incrociano con il polline che proviene da una graminacea, un'erbaccia che cresceva lì intorno e per un errore, per un accidente, anche questo patrimonio genetico non si è diviso. Quindi si ottiene non un incrocio come prima che aveva solamente la metà del patrimonio genetico ma si unisce contemporaneamente tutto, tutti i cromosomi del Triticum con tutti i cromosomi di questa erbaccia, una Agilops. E quindi otteniamo una pianta che ha il doppio dei cromosomi sia del papà che della mamma. Si è creata una nuova specie. Questa nuova specie si chiama Triticum dicoccoides, è il farro selvatico che cresce ancora spontaneo in Israele o in Turchia. È una specie diversa, non si incrocia più né col papà né con la mamma, perché? Perché ha un numero diverso di cromosomi e quindi non riuscirebbe più a incrociarsi. Quindi ho creato una nuova specie. Nell'articolo che ho scritto ho messo che questo era un incrocio impossibile e impossibile l'ho messo tra virgolette, non a caso. L'ho messo tra virgolette per indicare che è impossibile solamente se noi abbiamo una visione, passatemi il termine, creazionista delle specie viventi, come qualcosa che ci è stata data da Dio ed è intoccabile e non è mai cambiata. In realtà non è così e lo sappiamo da un bel po', per cui i botanici non si stupiscono assolutamente dallo scoprire che in natura succedono, sono successe, continuano a succedere, succederanno ancora, questo tipo di trasformazioni genetiche che portano a delle nuove specie. Infatti gli esseri viventi hanno un numero variabile di geni, numero variabile di cromosomi, anche se tutti noi deriviamo da un unico organismo monocellulare. Questo tipo di fusione genetica di solito con gli animali non avviene, perché l'embrione normalmente muore. Nel mondo vegetale invece questo succede anche se molto raramente, ma un evento molto molto raro, se aspettiamo un tempo sufficientemente lungo, quindi insomma centinaia di migliaia di anni, beh, questo può avvenire ed è avvenuto più volte. Quindi 300.000 anni fa c'era questo Triticum Dicochoides, farro selvatico, e non se lo fila nessuno, per 280.000 anni. Adesso ritorniamo avanti e arriviamo a circa 20.000 anni fa, e in quella zona, abbiamo detto, c'è Homo sapiens, che occasionalmente raccoglie i semi di questo farro selvatico, ci sono dei reperti archeologici, li raccoglie per qualche migliaio di anni, li macina, li cucina, fa una sorta di pane. Poi però Homo sapiens inventa l'agricoltura, quindi comincia a domesticarlo, comincia a trasformarlo, comincia a coltivarlo, a selezionare i caratteri che più gli interessano, non è più selvatico, e diventa quello che noi ancora adesso possiamo consumare col nome di farro, più propriamente si dovrebbe dire farro di cocco, per distinguerlo da quello monococco, è quello che noi possiamo trovare e farci delle grandi zuppe. Ho mangiato una zuppa buonissima, una zuppa di farro, per esempio quando sono stato all'ultimo Luca Comics. È il farro il vero grano dell'antichità, e siccome era molto meglio nelle sue proprietà panificatorie del farro monococco, comincia a diffondersi, comincia a spopolare. Era il grano dei romani e il grano degli egizi, non il kamut che è un'invenzione commerciale, magari se volete ne parliamo in un altro video. In seguito, con una serie di ulteriori modifiche genetiche, che però non hanno alterato il numero di cromosomi, sono state selezionate dall'uomo e abbiamo ottenuto poi quello che noi consumiamo come grano duro con cui facciamo la pasta. Dicevamo, il farro spopola nell'antichità, quindi si diffonde a macchia d'olio, e arriva in una regione diversa da quella di prima, vi ricordate prima eravamo nel sud-est della Turchia, qui invece siamo a sud-ovest del Mar Caspio, e qui circa 8-9 mila anni fa avviene un altro evento impossibile, impossibile sempre tra virgolette. Il farro coltivato, ripeto coltivato, ad un certo punto subisce una fusione genetica ancora con un'altra graminacea, un'erbaccia che cresceva probabilmente ai bordi del campo coltivato. E avviene lo stesso tipo di fusione genetica che abbiamo detto prima. Il farro coltivato si ingloba tutti i geni di questa erbaccia selvatica. E quindi a questo punto abbiamo il triplo dei cromosomi del triticon di partenza. È un vero e proprio mostro genetico, con 14 x 14 x 14 uguale a 42 cromosomi. Questa nuova specie, che non si incrocia più con i genitori, si chiama Criticum spelta, farro spelta, che poi, nei millenni successivi, con alcune altre modifiche genetiche, diventa il grano tenero, il furmento tenero, con cui noi facciamo il pane, la pizza, le torte, i biscotti e così via. Capite perché non esiste l'ossato selvatico? È nato già domesticato, perché è nato già dal farro domesticato. Immaginatevi quell'ignoto agricoltore che un giorno va nel suo campo di farro e vede delle spighe diverse, perché è una specie diversa. Quindi le prende, le separa e prova a coltivarle. E da lì è nata una nuova specie. Pian piano si diffonde e sostituisce quasi tutti gli altri triticum. In Europa si diffonde nel Medioevo e adesso rappresenta il 95% di tutti i grani coltivati al mondo. E poiché è nato già domesticato, tutte le varietà che poi si sono sviluppate in seguito sono tutte molto molto vicine geneticamente, hanno quello che si dice una biodiversità molto molto ridotta, e di fatto geneticamente sono tutti grani moderni, altro che grani antichi. Il processo di fusione genetica che vi ho descritto, semplificandolo, è un processo che avviene molto molto raramente, perché presuppone che vi sia un errore di duplicazione nella produzione delle cellule sessuali del papà è un errore di duplicazione nelle cellule sessuali della mamma e che queste due cellule sessuali anomale si incontrino e che riescono a sviluppare un embrione. Quindi è una cosa che succede molto molto raramente. Però succede, ed è uno dei modi con cui si formano nuove specie in natura. Nel libro Contro Natura abbiamo raccontato questa storia, così come molte altre, per illustrare come il concetto di naturale sia un qualche cosa di profondamente culturale e non di scientifico. È rassicurante, certo, a volte, ma nasconde una complessità che esiste là fuori nell'agricoltura e che troppo spesso viene dimenticata. E che quindi l'idea che noi ci facciamo delle piante che noi mangiamo sia, insomma, profondamente semplificata. Siamo un po', inconsciamente, passatemi il termine, un po' tutti creazionisti, abbiamo un po' quest'idea che quello che noi mangiamo è sempre resistito così, no? Che i peperoni siano sempre resistiti così, che il frumento sia sempre resistito così e così via. In realtà non è così. E l'agricoltura stessa è una storia di geni che si trasferiscono, si duplicano, si modificano, vengono selezionati, che saltano da una parte all'altra e così via. Ma se è avvenuto in natura ora lo possiamo fare anche in laboratorio, quindi se andate in un supermercato potete trovare il Tritordeum. Degli scienziati spagnoli hanno preso del grano duro e l'hanno fuso geneticamente con dell'orzo selvatico, da qui il nome Tritordeum, è una fusione di Triticum grano duro, e Ordeum orzo. Quindi hanno creato dal nulla una nuova specie. Paradossalmente va fortissimo nei negozi bio-naturali, anche se è un cereale completamente artificiale inventato e fabbricato in laboratorio. Ma è buffo proprio, lo scrivono qui nell'etichetta un nuovo cereale naturale, cioè se è nuovo come fa a essere naturale. Ma vabbè, è il discorso che facevamo prima sul concetto di naturale. Affascinante, vero? Ora, io non sono credente e la Bibbia non mi interessa e non so se esistono gli alieni e se siano mai venuti sulla Terra. Confesso che da bambino divoravo i libri di Peter Colosimo, Non è terrestre o Astronavi sulla preistoria, o quelli di Van Daniken, Gli extraterrestri hanno inventato l'uomo e aspettavo ogni settimana la nuova puntata di UFO. con il comandante Strecker e le conturbanti addette di Base Luna con il loro magnifico caschetto viola. Ah, che ricordi! Quindi il mio animo da bambino sarebbe enormemente affascinato dallo scoprire che una razza di alieni extraterrestri è intervenuta sulla Terra nel passato per donarci il frumento e chissà quant'altro. Ma, ahimè, da scienziato so che non è necessario invocare gli extraterrestri per spiegare l'evoluzione del grano tenero, dei pomodori e di tutto il resto che noi mangiamo. In descrizione vi metto un breve video che riassume cosa dice Biglino sul frumento e su altre cose di genetica, oltre al mio articolo con i dettagli in più che non vi ho raccontato qui nel video, e insieme a qualche altro articolo di approfondimento. Per oggi il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Ciao e alla prossima!